Oggi faccio il quarto nome, dopo Fagioli, Zaniolo, Tonali, oggi un altro giocatore, gioca nella Roma. Guarda io ho un nome di un giocatore della Roma attualmente. Zaniolo? No, 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 no. Ora? Che gioca ora? Che gioca ora, sì, sì. Italiano? Italo-polacco. Ah, cosa? Ragazzino? Sì. Gioca? Gioca, gioca, gioca. Con certezza? Con certezza, ma proprio assolutamente sì. E poi so anche... Come si chiama lui? So anche fagioli a chi deve parecchi soldi. Questo mi interessa. Perché... Ma la vita serba? Eh, scusami? Ma la vita serba? No, 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 no. Guarda, ti assicuro che qui a Roma non solo malavitosi hanno il banco. Perché io ho saputo tramite delle persone, delle amicizie con certezza che un cantante, un DJ ha un banco molto importante a Roma. Famosi? Sì, 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 sì. Ok. Ha un banco di scommesse e questo banco so che faceva giocare alcuni giocatori, tra cui... Fagioli che so che gli deve 70.000 euro. Grazie a tutti.